Benvenuti in questa nuova lezione in cui tratteremo la spedizione dei Mille e l'Unità d'Italia. E' la naturale continuazione del video precedente. Dove eravamo rimasti nel video precedente? Ha una serie di plebisciti tra l'11 e il 12 marzo 1860 con il quale il Regno di Sardegna si annetteva l'Emilia e la Toscana. Il margine di manovra diplomatica per l'annessione del territorio centro-meridionale era pressoché esaurito. Cioè, abbiamo raggiunto ora che cosa accade nei territori centro-meridionali. Dato che, come abbiamo detto, gli accordi, l'alleanza Franco-Sabauda prevedevano semplicemente la formazione di un regno dell'Alta Italia con a capo Vittorio Emanuele II, che grossomodo si era formato, e l'Unità d'Italia, cioè l'Unità dello Stivale, i territori centro-meridionali, Beh, diciamo che il nuovo input fu dato dai Mazziniani, Francesco Crispi e Rosolino Pilo, che, convinti di poter sfruttare il malcontento del popolo meridionale per la dominazione borbonica, in particolare quello siciliano, la parte siciliana, suggerirono a Garibaldi di recarsi con un'armata nel sud Italia. Ai vertici della politica Sabauda, rispetto alla possibilità di tale spedizione, non vi è l'identità di vedute tra Vittorio Emanuele II e Cavour. Il primo era favorevole all'impresa, mentre il secondo temeva la reazione internazionale della Francia. Cioè, la Francia era alleata, diciamo, nell'Italia, ma fino a che, diciamo, questo fosse stato conveniente, e ora questa spedizione, mandare, cioè, l'idea di Garibaldi che scende verso il sud dell'Italia, un po' come un cane sciolto, divide Vittorio Emanuele, l'opinione di Vittorio Emanuele II, da quello di Cavour. Ad ogni modo, come ovviamente sappiamo, Garibaldi parte nella notte tra il 5 e il 6 maggio del 1860. Parte, diciamo, con un corpo di circa 1000-1070 uomini, da cui 1000, da quarto, Genova, su due piroscapi, uno si chiama Piamonte e l'altro il Lombardo, sono diretti verso la Sicilia, ma prima fanno scalo a Talamone per rifornirsi di viveri e armi. Dopo 5 giorni, il gruppo di spedizione arriva a Marzala e avanza praticamente senza grossa resistenza e consegue importanti vittori a Catalafimi, Palermo e Milazzo. Diciamo che cosa? Diciamo che all'inizio la popolazione siciliana è ben contenta dell'arrivo delle truppe garibaldine. Perché? Perché i contadini meridionali, da un lato i contadini speravano che, diciamo, le truppe garibaldine favorissero la caduta del regime borbonico, e questo sì, ma allo stesso tempo fossero anche un'occasione di riscatto sociale, liberandoli dal latifondismo per ottenere una distribuzione più equa delle terre. Anche la classe dirigente meridionale dimostrava di credere l'intervento garibaldino, ma per motivi opposti rispetto a quelli dei contadini. Le classi agiate, infatti, credevano che il regime borbonico non fosse più in grado di tutelare i loro interessi. A Garibaldi, in realtà, diciamo, delle masse contadine sembrano non importare molto. Perché? Perché era dell'idea che senza l'appoggio della ristorrezza terriera, l'impresa dei mili sarebbe stata destinata a fallire. Tant'è che, diciamo, le truppe garibaldine non sentirono ragione di un'ipotetica redistribuzione delle terre. A Garibaldi non era, diciamo, uno dei gracchi. E, prova a nè, diciamo, quella pagina sicuramente più oscura della spedizione d'Emilia, che è la strage di Bronte, che è un paese a piedi dell'Etna. Che succede? Succede che il 4 agosto del 1860, Nino Bixio, comandante in seconda di Garibaldi, fa arrestare e fucilare 150 rivoltosi che avevano cercato di requisire le terre latifondisti per dividere e distribuire. Quindi non c'è spazio. Si cerca di unificare l'Italia, ma non c'è spazio per le rivendicazioni sociali. Vedremo che, in realtà, poi questa poca cura, questa, diciamo, disattenzione, questa anche repressione dei sordini sociali causati dall'ineguaglianza sociale poi porterà il governo della nonale Italia a doversi confrontare con fenomeni complessi come quelli del brigantaggio. Al di là di questo, Garibaldi continua, nonostante i sordini in Sicilia, Garibaldi continua la sua avanzata, arriva in Calabria, poi si sposta a Napoli, che viene presa senza colpo ferire. Perché? Perché il re Francesco I, detto, non si sa se per simpatia, ma probabilmente, diciamo, per vilipendio, Franceschiello, si rifugia nella fortezza di Gaeta. Siamo nel settembre, l'esercito sabaudo arriva nelle Marche, e il 26 ottobre si svolge il famosoissimo incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II, nel quale il primo cede la sovranità dei territori conquistati, appunto, al sovrano, insomma, quindi a Vittorio Emanuele II. E questo, sostanzialmente, l'incontro di Teano è la fine delle ambizioni mazziniane, cioè, mazzini sogniamo una repubblica, sogniamo una democrazia, beh, no, l'Italia si va unificandosi, ma in realtà la forma di una monarchia e tale rimarrà per diverso tempo. Anche qui, diciamo, avvengono dei plebisciti, questi accadono, diciamo, sia nel Meridione che nell'Italia centro-centro, centro-centro-centronale, e come vediamo qui, sostanzialmente, la stragrande maggioranza, siamo nell'ordine del 97, 94, 95, 99%, di coloro i quali votano questi plebisciti è favorevole all'annessione, quindi a unirsi al Regno di Sardegna. I dati, come al solito, si trovano, diciamo, sono linkati, la fonte dei dati è linkata nella descrizione del video. Parliamo della neonata unità d'Italia. si può parlare sicuramente per la prima volta nell'epoca contemporanea di un'unione dell'Italia in un senso politico oltre che geografico, quindi si può utilizzare l'Italia per indicare lo Stato, non solo, diciamo, la penisola italica. Proprio perché? Perché si è unificata. Nasce così un nuovo Stato in Europa, uno Stato che non è più uno Stadrello, un piccolo Stadrello italiano, ma è uno Stato che conta 20 milioni di abitanti, la Francia ne faceva 30, quindi ne contava 30, quindi sostanzialmente non è uno Stato troppo piccolo. E la prima riunione del Parlamento nazionale avviene il 17 marzo 1861. Questo Parlamento nazionale è eletto tramite sistema censitario, cioè lo Stato si è unito, però stiamo per vedere che le forme, il suo regime non è quello che diremmo illuminato nel senso che, per esempio, Vittorio Emanuele II viene dichiarato per grazia di Dio e volontà della nazione. In questa espressione non è per volontà della nazione che fa problema, perché lì si direbbe è rappresentativo della nazione. No, è per grazia di Dio. Grazie a Dio. Perché? Perché l'espressione per grazia di Dio richiama la concessione della marchia come legittimata dal diritto divino. Ancora viene dichiarato re d'Italia e non re degli italiani, il che fa intendere una certa distanza dal popolo. Stessa questione affrontata da Luigi XVI nel contesto della rivoluzione francese. Un ultimo aspetto che ancora merita attenzione, qui diciamo che è il dettaglio che conta, spesso si comprende anche da dettagli che sembrano piccoli ma che in realtà non sono piccoli poiché Vittorio Emanuele non cambia nome. Si chiama sempre Vittorio Emanuele II. Non si chiama, non cambia il suo nome in Vittorio Emanuele I il che lascia intendere che egli si concepisca non come il monarca del nuovo stato ma sempre come il re di Sardegna che ha ampliato i propri possedimenti. Quindi non è diciamo un'unione ideale di un nuovo stato che doveva già unificarsi in qualche modo. No, è il regno di Sardegna che in un modo o nell'altro con un po' di diplomazia con un po' di spirito di iniziativa con molta fortuna è riuscito a annettersi e collegare a sé la maggior parte del territorio della penisola italica anche se adesso si chiama Regno d'Italia. Ulteriori problemi non è ovviamente l'Italia che conosciamo oggi ci sono diversi territori che non fanno parte dell'Italia del 1861 uno per tutti sicuramente è il Lazio quindi Roma la capitale diciamo spirituale poi diventerà capitale ma non adesso e territorio quindi territorio stato pontificio il Veneto la Venezia Giulia e il Trentino. La conclusione ideale del processo risorgimentale diciamo che si può indicare con la morte di Cavour che muore il 6 giugno del 1861. L'ultima cosa che aggiungiamo è che sebbene l'Italia sia finalmente stata unificata sia unita politicamente questo non equivale ad affermare che essa sia unita ed omogenea dal punto di vista sociale economico culturale o di senso di appartenenza ad un unico Stato. L'Italia appunto famosa è la frase che viene attribuita non si sa bene se sia proprio questa non si sa bene effettivamente se l'abbia detta Massimo D'Azzeglio però diciamo la vulgata si dice che D'Azzeglio abbia affermato fatta l'Italia bisogna fare gli italiani e proprio fare gli italiani sarà uno dei compiti di cui i governi successivi sia della destra che della sinistra storica dovranno occuparsi come al solito nella descrizione del video c'è il link all'articolo del blog e in questo caso troverete anche una mappa nell'articolo una mappa fatta con Google Maps con i vari che descrive perfettamente le tappe della spedizione dei 1000 arrivederci quindi alla prossima lezione che è un'articolo